Benvenuti allo Sprint Master, oggi siamo ai blocchi di partenza per iniziare questa avventura insieme. Iniziamo intanto con un applauso di benvenuto a tutti. Grazie davvero che siete riusciti ad esserci, a venire da vicino, da lontano, grazie davvero. Il titolo del mio brevissimo speech, più che il titolo, speriamo sia una promessa che gli esami non finiscono mai, quindi purtroppo che un pochettino sono più grande di voi posso dire che andranno avanti per lungo tempo. Però questo potrebbe essere anche l'ultimo da studente, perché quello che vogliamo con questo percorso di Super Sprint è che voi iniziate velocemente l'esperienza lavorativa, quindi avrete tantissimi altri esami, ma non più da studente, da lavoratori. Quindi questa è un po' la promessa che ci diamo, questo è il perché Bianca ha scelto questo titolo dell'intervento. Quello che vogliamo raccontare oggi sono un po' il retroscena dello Sprint Master, anche il perché l'abbiamo chiamato così. Quando abbiamo cominciato a disegnare questo percorso, ritenavamo importantissimo coniugare alcuni aspetti e alcuni valori che richiamano anche tantissimo il mondo dello sport. E quindi abbiamo cercato appunto, quando l'abbiamo chiamato, prima si chiamava Master Digital Live, Master Digital Marketing, analisi dati. Allora abbiamo chiesto aiuto anche ad un docente che conoscerete, si chiama Emanuele Giraldi, e lui ci ha detto, guardate che c'è tantissima connessione tra lo sforzo, l'allenamento, la fatica, le sconfitte che i ragazzi dovranno fare insieme al team per raggiungere poi lo sprint finale e dare questo scatto veloce sul lavoro. Al che è nato la parola Sprint Master e quindi con tante metafore nel mondo dello sport. Ora, non che io sia una sportiva, gioco ogni tanto a tennis, però molti del team sono appassionati di sport e quindi penso tantissimi voi e poi abbiamo scoperto un'altra cosa che imparerete ad utilizzare con Google Analytics che i visitatori del nostro sito, in termini di grado di affinità, di passioni, di curiosità, vi piace tantissimo anche il mondo dello sport. Quindi c'è questa affinità di interessi con il mondo del lavoro, il mondo della formazione e anche il mondo dello sport. Quindi questo è stato un po' un retroscena che sia in qualche modo un po' simbolico, ma anche dall'alto proprio basato su numeri e dati che vi uccideranno durante questo periodo. Allora, quali sono i valori che per noi riteniamo essere quelli più importanti e che sperimenterete poi nel corso del percorso? Ne abbiamo scelti tre. Ciao, ciao Jacopo. L'allenamento, la sconfitta, sulla parola sconfitta, io e Bianca eravamo in disaccordo perché lei diceva che la sconfitta non è un valore, il valore è la gestione e la sconfitta, però secondo me a volte la sconfitta è veramente un valore. Poi vi spiego anche il mio punto di vista, vi dico perché, e poi tantissimo teamwork. Forse il teamwork è il valore che respirerete di più in questi mesi che passiamo insieme. Vi racconto questi valori anche con degli sportivi e delle sportive che le cui vite mi hanno sempre incuriosito, quindi sono scelte mie personali, mi prendo tutta la responsabilità di aver scelto alcune persone, alcune sportive e non altre. Allora, la prima sull'allenamento ho scelto Bebevio, che ha una storia pazzesca, penso che conosciate tutti, quindi non ve la racconto. Lei tira di scherma, che era il mio sport da bambina, e quindi è una ragazza che comunque ci ha messo l'anima, allerandosi tantissimo, facendo tantissima fatica nel superare tutte le difficoltà, ovviamente che ha avuto, e con energia, grinta e passione sta vincendo tantissime gare, tantissime challenge che sta affrontando con le Parolimpiadi. Mi piace tantissimo questa sua foto, in cui tra l'altro ironizza e dice basta per oggi, sono a pezzi. Ecco, secondo me questa probabilmente vi... Ciao, benvenuto. Buongiorno. Sei? Nicola Barri. Ok, ciao Nicola, benvenuto. Ecco, sicuramente vi sentirete a pezzi tantissime volte, sia durante il nostro corso, ma anche al lavoro. Quindi quello che vi voglio dire è che l'allenamento costante, nel tempo quotidiano, dovete cercare di mantenerlo, perché vi serve sia la parte formativa per acquisire tantissime skill, di cui avete bisogno poi, sia per fare i project work, sia poi per entrare nel mondo del lavoro. Essere anche responsabili nei confronti poi anche del team, perché se non conoscete delle cose, mettete in difficoltà. Oggi un vostro collega per un teamwork, domani invece un vostro collega nel lavoro. E anche sentirete sicuramente un po' il peso della fatica. Io ricordo i primissimi giorni e settimane di stage, di lavoro poi seguente, anche oggi sinceramente, una fatica immane. Quindi, secondo me, più riuscite ad allenarvi, a tenere un pochettino il passo, più sicuramente riuscite poi ad andare anche più veloci dopo con la fine dello sprint master. E poi, a proposito anche di allenamento, noi vi alleneremo anche lavorando in pratica in smart working, che è la stessa modalità che stanno utilizzando oggi le aziende. Quindi questa formula, oggi abbiamo scelto questa formula ibrida, di vederci fisicamente a ragazzi collegati. Da giovedì passerete tutti a fare questo percorso online, però più o meno la stessa modalità che stanno utilizzando le aziende. Quindi noi oggi impareremo tanto a lavorare in smart working, imparerete anche tantissimo gli applicativi Zoom, Google Meet, Google Classroom, veramente Slack, Trello, poi piano piano li vedremo tutti. E questo è molto importante perché non è banale che nel mondo delle aziende sappiano utilizzare questi tool. Quindi è anche un allenamento proprio utilizzare le stesse pratiche delle aziende. Poi domani invece lavoreremo con, sperimenteremo una modalità che si chiama già il working, che è molto diversa dallo smart working, però è sempre una modalità che stanno utilizzando le aziende per lavorare più velocemente, per essere più creative e per produrre anche prodotti e servizi nel più veloce possibile. Quindi ecco, primo valore dello sprint master è l'allenamento. Poi non dite che non ve l'avevo detto, vi dovete allenare, anzitutti. Poi il secondo, sempre, aiuto, un attimo, la riprendo. Poi sempre sul tema dell'allenamento, mi sono accorta nella mia vita che spesso allenandosi ad imparare nuove cose, a lavorare in smart working, a imparare poi anche tante skill, si impara anche tantissima innovazione. Quindi vi ricordo la storia di Nick Fosbury, che era quest'atleta statunitense, che nel 68 vinse le Olimpiadi, se non ricordo male, in Messico, con il salto dell'asta, con un'apera che introdusse una modalità particolare di fare il salto, come vedete in questa foto, non è lui, ma è una ragazza all'indietto. Prima il salto dell'asta si faceva in una modalità diversa, praticamente più, come dire, di lato. Tra l'altro, era una modalità che solo gli uomini riuscivano a fare, perché ci voleva molta prestanza fisica. Invece, con Fosbury introdusse, allenandosi continuamente, sperimentò questo tipo di metodologia, aprì anche le porte alle ragazze per fare questo tipo di disciplina olimpica, e poi finalmente riuscì a vincere e quindi grazie tantissimo anche all'allenamento scoprì qualcosa di nuovo. Quindi allenarsi non vuol dire vedere cose già fatte, ma significa anche sperimentare, fare qualcosa di nuovo e anche questo è uno dei valori più importanti che ritroverete in azienda. No, niente, non mi fanno andare avanti, vediamo. Eccola qua. Ecco, vediamo il tema della sconfitta. Perché ho scelto la Pellegrini? Vi fa venire in mente qualcosa il tema della sconfitta con la Pellegrini? E' quella proprio di non saper nuotare in mare aperto. Quindi, lei dice, io, sembrerà pazzesco per un atleta come me che nuota, che va vissuto praticamente dentro l'acqua, ma lei non riesce a farsi un bagno in mare, soprattutto con, se c'è grande profondità, va provato diversi corsi, eccetera, ma niente, lei non nuota in mare. Che io dico, è una cosa che può sembrare folle e che però dà la dimensione e la grandezza di una ragazza che è un'atleta fantastica, ma al contempo convive con questa sconfitta, paura e penso che anche tanti di noi avranno a che fare con la sconfitta e con la paura, dei colloqui magari che non andranno bene, degli esercizi che non vi torneranno, delle formule di Excel che non riuscirete a fare, ma potete chiedere ad Elena che lei è, forse, eccola lì, la numero uno dell'analisi dell'Excel e quindi ci saranno sicuramente tantissime cose che vi atterreranno, dovdiché avete due, come dire, vie d'uscita, no? O vi dite, vabbè, niente, non ce la posso fare, quindi vi gestite questa paura perché comunque io penso che comunque tutti noi abbiamo delle sconfitte, delle paure che non riusciamo comunque a, come dire, a superarle, però bisogna saperle gestire, saperle che le abbiamo e quindi cerchiamo in qualche modo di non andare al mare ma di andare, ad esempio, in montagna, di continuare a nuotare in piscina. Oppure invece l'altra alternativa è quella di imparare e comunque di superarle, quindi ogni volta che vi trovate di fronte a delle sconfitte scegliete quale strategia volete mettere in atto, però pensate bene, diventate, come dire, consapevoli delle vostre paure, delle vostre sconfitte e degli insuccessi che oggi, domani, comunque, vi accompagneranno, ti devo dire, è anche bello comunque averle, non essere perfetti, poi vado avanti e l'ultima dei nostri valori è quella del teamwork perché la parte di collaborazione è super, è veramente essenziale sia nel nostro, nel percorso formativo ma anche nel percorso poi lavorativo. Col teamwork ho scelto l'Alley Hope, non so se si pronuncia proprio come lo pronuncio io, c'è qualcun esperto di basket? Credo sia Alley Hope. Esatto, Federico mi dice giustamente che Alley Hope perché l'ho scoperto, io francamente non lo conoscevo, l'ho scoperto grazie al blog del Sole 24 Ore dove scrivo che si chiama Alley Hope che io quando ero piccolina volevo fare la giornalista, ero super convinta di doverla fare e poi mio padre è un amante veramente vabbè e mi disse ti presento dei giornalisti vabbè ne sottavano tutti uomini fumavano tutti come dei disgraziati mi dissero tutti no guarda un lavoro non guadagni niente diventerai giornalista a 40 anni mi spaventarono talmente tanto che dissi vabbè grazie babbo ti veramente mi hai illuminato quindi vabbè niente quindi ho escluso la carriera del giornalista però mi è sempre piaciuto comunque scrivere so di anche scrivere non bene però sono andata avanti e quindi mi sono candidata per scrivere ogni tanto sul Sole 24 Ore su Alleyop perché ho conosciuto attraverso sempre il networking la Monica D'Ascenso che segue questo blog lei è una giornalista vera finanziaria del Sole 24 Ore e quindi scrivo di tutte le tematiche relative ai giovani e al lavoro che è poi uno dei motivi per cui mi sono appassionata di Digital Live ed è che Monica mi ha fatto scoprire questa tecnica di basket che vi racconterà Federico perché io non la so neanche non la sai e lei ha costruito questo blog multifirma con persone molto molto diverse ma c'è un grandissimo spirito di squadra però tu lo sarai cos'è? che cos'è? non devi farlo devi dirlo non lo so non lo so onestamente cos'è in livello specifico non lo seguo il basket ok aspetta che faccio vedere penso che appunto relativo al teamwork di questa slide si parli del fatto che ci sono due giocatori in questa alley-oop che sarebbe un chiamiamola mossa di basket praticamente un giocatore la passa vicino al canestro all'altro e l'altro la prende a rimbalzo e direttamente va a fare canestro quindi appunto c'è un teamwork tra questi due giocatori che comunque devono essere molto affini tra loro perché appunto è una mossa molto veloce e quindi dal passaggio si passa subito al canestro esatto quindi mi piacerà tantissimo che tutti noi insieme avessimo tanto spirito di squadra facessimo alley-oop o i-oop adesso non so come si pronunci insieme e questa cosa qui vi poi spesso sentirete di rano è un'azienda c'è la competizione vero sì però vi assicuro che adesso soprattutto poi in questo periodo in cui viviamo premia tantissimo proprio la invece la parte di lo spirito di squadra la collaborazione l'aiuto reciproco soprattutto perché voi sarete un po' dei paladini del digitale e considerate che per esempio in una delle nostre aziende partner si chiama Prismian che poi conoscerete i ragazzi hanno un job title cioè ragazzi scusatemi di digital life che sono andate a lavorare in Prismian hanno un job title che si chiama digital catalyst perché loro sono i catalizzatori del digitale quindi sicuramente vi chiederanno a voi no ma tu che vieni dal digitale mi spieghi come si fa questo quell'altro il resto dei colleghi quindi veramente cercate di lavorare il più possibile che in team con le persone che vi stanno attorno sia qui che sia poi nel mondo del lavoro ok tutto questo per dirvi che ci auguriamo appunto che lo sprint sia veloce noi ce la metteremo tutta affinché raggiungiate uno sprint finale per il mondo del lavoro tutto il mondo Grazie a tutti.